Dopo i canali Whatsapp, quelli su Instagram, ovviamente quelli su Telegram, ecco la novità, i canali su Facebook. Vediamo al volo cosa sono, a che servono, come funzionano e come crearne uno. Ovviamente ho anche creato il mio, mica potevo non farlo. Stiamo col dire che solo chi possiede una pagina può creare un canale su Facebook. Una volta creato si posiziona qui, vedete, aggiornamenti. Solo gli amministratori dei canali possono inviare foto, video, messaggi vocali, scrivere qualcosa. È possibile anche creare un sondaggio, ma attualmente solo da web. Molto brevemente, per chi non sapesse che cos'è un canale broadcast, si tratta di un modo di comunicare uno a molti. In pratica, chi lo crea ha la possibilità di inviare contenuti, di scrivere qualcosa. Chi fa parte del canale, quindi i follower, gli amici o chi che sia, riceverà questi aggiornamenti, questi messaggi. Non potrà commentare, non potrà scrivere niente. L'unica cosa che può fare è lasciare una reazione, una qualsiasi reazione. Se la funzione per te è attiva, per crearne uno, vai su Altro e poi su Canali. Io ho già il mio, a cui ho dato il nome, aggiornamenti. Oppure è possibile crearne uno. Dobbiamo cambiare l'immagine, dobbiamo dare un nome, il canale ovviamente è pubblico. Una volta cliccato su Crea, il canale sarà visibile. Come detto, si tratta di chat a senso unico. Il creatore, cioè non il creatore, il creatore del canale, può vedere chi fa parte dello stesso. Mentre i membri del canale non potranno vedere chi altro ne fa parte. Se utilizzi Facebook il mio canale lo trovi sul mio profilo oppure lascerò il link nella mia bio.